Eccoci qua, in realtà stiamo parlando da più di tre ore di quello che sta succedendo, la nostra non stop di oggi e sapete che siamo alla fase cruciale, siamo alle dichiarazioni di voto, vediamo se mi assistete, vediamo che ci sono Di Maio e Franceschini che stanno al tavolo del governo confabulando, mentre qui vediamo tutto l'insieme di governo, vedete che c'è Conte a fianco il ministro dell'economia Gualtieri, mentre sta parlando Loredana De Petris che è esponente, che è la capogruppo di liberi e uguali al Senato, dietro di lei vedete l'ex Presidente del Senato Grasso e a fianco Sandro Ruoto, nostro collega che è diventato senatore appunto della sinistra. La verità è che in questi minuti c'è forte tensione e l'abbiamo raccontata per tutto il pomeriggio, i numeri sono esigui per il governo rispetto a quelle che erano le speranze, sono sicuramente molto al di sotto della soglia della maggioranza assoluta e però stanno scendendo in maniera preoccupante per il governo attorno a quota 153. Secondo una parte degli osservatori, degli esperti, ma anche del mondo politico, sono numeri che imporrebbero un passaggio, come si dice, un passaggio al Quirinale, cioè una richiesta di consultazione e anche una crisi pilotata per così dire, cosa che in qualche modo nella sua replica. Come vedremo nel telegiornale il Presidente del Consiglio ha un po' evocato parlando di rafforzamento della squadra di governo. E' evidente che da una parte c'è la tentazione e anche il tentativo di mettere in mora il governo e inchiodarlo a numeri troppo bassi per proseguire la sua marcia. Dall'altra c'è il clima attendista di chi dice facciamo intanto passare l'appuntamento più difficile che è proprio questo di oggi al Senato. A questo punto si voterà probabilmente tra un'ora e conosceremo alle 10 di sera il risultato, tanto per essere molto chiari. E passato tutto questo andiamo a accogliere nella maggioranza un gruppo di, lo sapete sono stati chiamati responsabili, costruttori, insomma un gruppo che provenendo dalle file del centro-destra possa cementare la maggioranza con un nuovo gruppo parlamentare, perché questa è la richiesta del Presidente della Repubblica che ci sia comunque una nuova maggioranza con un perimetro molto chiaro fatto da una serie di forze politiche e non da arrivi in ordine sparso. Questo porterà evidentemente a una nuova situazione se gli auspici e come dire il disegno che si coltiva nel governo della maggioranza attuale, quella a tre in questo momento PD, 5 Stelle, Liberi uguali, trovasse compimento. Tra l'altro avete sentito, se avete seguito, la durezza del discorso di Renzi, la intransigenza anche della replica di Conte e la durezza ancora maggiore rispetto a Renzi di Teresa Bellanova che in dichiarazione di voto però poi, detto tutto quello che umanamente si poteva dire a Conte, ha detto noi comunque ci asterremo. È evidente che Italia Viva vuole restare nei giochi. Poi però sentiremo anche Salvini che a questo punto parlerà nel corso del telegiornale. La linea del centrodestra è chiara, intransigente rispetto a quello che succede e poi arriverà il momento probabilmente di dichiarazione di voto individuale e lì vedremo se ci saranno stati dei passaggi, come è possibile in questa giornata. Quello che è chiaro è che poi alla fine della fine della fine quello che conterà sarà il numero, l'insieme dei numeri, quanti per la maggioranza, quanti per l'opposizione. Ma in questa giornata ci sono altri numeri, ci sono stati ancora più di 600 decessi, anche se questo è un quadro però di numeri complessivi che hanno fatto scendere l'indice di positività mettendoci quindi al cospetto di una situazione che ancora purtroppo paga un caro prezzo in termini di vittime ma che si sta col beneficio del restringimento che ci sono stati nel periodo natalizio riportando in una fisiologia meno preoccupante. Ma come vedremo ci sono altri fatti e una giornata politica così importante non potremo anche fare a meno di ricordare e lo faremo con un dovere che è anche intinto della sua passione, un grande esponente politico Emanuele Macaluso che proprio oggi è venuto a mancare. 30 secondi e iniziamo col telegiornale. Allora eccoci qua, il telegiornale non può che essere in la prosecuzione, la nostra non-stop sta concludendo, ascoltiamo per qualche istante il suo intervento Loredana De Petris, ovvero la capogruppo di Liberi Uguali. Ma non solo oggi con la pandemia, noi avevamo già un numero bassissimo di laureati, quindi avevamo problemi strutturali che certo non ha creato questo governo. Quindi è andato tutto bene? No, lo ha ammesso il Presidente del Consiglio. C'è da lavorare molto, c'è da lavorare tantissimo, c'è anche da cambiare, c'è anche da cambiare. La mia cultura confrontata con quelle delle altre, la mia storia con quelle delle altre. Noi dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare insieme, dobbiamo cambiare per l'Italia. E lo dico anche, qui si è fatto una rappresentazione ridicola e offensiva, Presidente, all'appello che lei ha fatto. Guardi, siccome io sono un ecologista, per me la parola è di responsabilità. Loredana De Petris, andiamo da Paolo Celata. Cosa si muove in questi minuti? Direttore, allora, gente che passa davanti alle camera si muove. Allora, sì, ti dicevo, abbiamo intercettato Mario Giarrusso e non ci ha detto nulla, però così come non si starebbero sbilanciando gli altri due o tre senatori, che a questo punto dicevamo uno non cambia. In realtà sì, perché se arriviamo da 152, 53 a 156, molto cambia almeno per quella soglia, diciamo solo psicologica, di una maggioranza consistente di un certo tipo, che era quella che era stata paventata nelle ultime ore come rassicurante, per poi iniziare un'interlocuzione nei prossimi ore, prossimi giorni, anche con altri senatori. Quindi ti dicevo, in realtà dovrebbero rispondere, devono rispondere alle vari tentativi di interlocuzione ancora quei senatori, in particolare ex 5 Stelle, Ciampolillo, così come Giarrusso, mentre da quello che so io la senatrice Drago ormai viene considerata o in astensione o addirittura con voto contrario. Dopodiché dobbiamo dare conto anche di, ma questo l'ho annunciato da tempo, ma è importante, dicevo, per quei numeri del sì alla fiducia di Tommaso Cerno e ora stiamo cercando di capire perché invece è completamente saltata quell'interlocuzione con Italia Viva, che si è ricompattata con l'astensione, dopo che vi avevamo detto che era stata convocata una riunione dei parlamentari, dei senatori e ci si è, abbiamo avuto conferma su questo, ci si è confrontati sulla possibilità di votare no e quindi di dare un forte segnale contro il governo Conte, posizione che invece poi è stata accantonata, si è ritornati sulla stensione anche perché con un voto di no, contrario alla fiducia, in realtà non avrebbe tenuto il gruppo da quello che ci risulta. Quindi compatti sulla stensione, compatti anche nei prossimi giorni, nonostante, dicevo, appunto i tentativi di interlocuzione che vanno avanti, io so che vanno avanti da parte del gruppo dei cosiddetti, insomma, costruttori dei cosiddetti responsabili. Ok Paolo, benissimo, scusate, allora, solo un secondo, vorrei andare a segnazione 6, voglio mostrarvi qualcosa che non c'entra niente con la crisi, è l'addio di Joe Biden al suo Delaware, una grande manifestazione che si è appena conclusa, vedete colui che da domani sarà il Presidente degli Stati Uniti in piena funzione, tra l'altro questo mi permette di ricordarvi che dalle 17 di domani vi mostreremo in diretta l'Inauguration Day, il grande passaggio di poteri a Washington. Questo è Biden che sta salutando la sua gente del Delaware. Noi torniamo invece alla scena italiana. Alessandra Sardoni, ci sono altri elementi da aggiungere? No, appunto c'è un monitoraggio con qualche elemento di integrazione alle cose che stava dicendo Paolo Celata e naturalmente qui su Giarrusso si comincia a fare affidamento, quindi potrebbe essere, visto da parte sempre dei 5 Stelle e da chi li segue con particolare attenzione, Giarrusso potrebbe essere effettivamente convinto dalle parole di Conte nella replica, potrebbe essere stato convinto, quindi potrebbe essere un voto che si aggiunge, molto più difficile la Drago, molto invece sono già assodati, quelli sicuri sono De Falco e Cerno, l'abbiamo già detto in altre occasioni e per quanto è pieno di capannelli di 5 Stelle che si confrontano perché naturalmente sperano di superare questa quota dei 153, è molto difficile come dicevo che possa essere Quagliariello e non si trova il senatore 5 Stelle, Ciampolillo, non lo riescono a trovare, ma non viene fatto molto affidamento. Quanto a Forza Italia, al massimo anche la senatrice Minuto, che era quella più sotto osservazione sulla quale si erano concentrate le speranze di Conte di tirarla da questa parte, in realtà anche lei non si trova, non è raggiungibile in questo momento, il che fa pensare però ad un'assenza, non che venga apposta per votare la fiducia a Conte. L'assenza già sarebbe un segnale per i prossimi giorni, ma naturalmente toglie un voto all'opposizione ma non lo aggiunge e quindi i numeri restano quelli. Quindi diciamo che siamo sempre su questi numeri, forse con il più già russo. Va bene, grazie Alessandra. Adesso però, giustamente detta la situazione, aspettando un voto che non è imminente, immaginando quello che potrà succedere, è giusto che vi raccontiamo nel più breve tempo possibile quello che è davvero poi successo oggi nell'aula di Palazzo Madana. Chiediamo un appoggio limpido e trasparente, che si fondi sulla convinta adessione a un progetto politico. Abbiamo, certo, i numeri sono importanti, oggi ancora di più. Questo è un passaggio fondamentale nella vita istituzionale del nostro Paese. Cerchiamo i numeri per la fiducia, ma anche la qualità, assicura Giuseppe Conte dopo un'ora di intervento nell'aula del Senato, che deve votare vita o morte per il suo governo. Ma sui numeri si balla, esclusa la maggioranza assoluta di 161, metà più uno degli aventi diritto. I pronostici vanno da 152 a 158. Sarebbe solo un pareggio contro la somma dei contrari del centrodestra e dei 17 astenuti di Italia Viva. Italia Viva, che con Maria Elena Boschi ha già detto che senza i 161 voti Conte dovrebbe dimettersi. Ma per la Costituzione basta un voto in più per la fiducia. Ieri è stata maggioranza assoluta alla Camera. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, non può ovviamente chiedere dimissioni contro il Parlamento e Conte sembra deciso a resistere. In aula c'è attesa per il duello con Matteo Renzi. Neppure oggi citato da Conte, che tuttavia preme l'acceleratore sulle critiche. Mi accusano di immobilismo e di correre troppo, di accentrare i poteri e di non decidere. Complicato governare con chi mina continuamente un equilibrio politico faticosamente raggiunto tra le forze di maggioranza. Critiche che Matteo Renzi conferma una per una con durezza nella replica. Il suo non è affatto il governo migliore nella pandemia, attacca. Anzi, siamo il paese peggiore nell'economia, nel numero dei morti, nei giorni senza scuola. Il suo è un arrocco istituzionale. Invece di salire in Quirinale dopo il nostro strappo, vuole andare avanti. Altro che incomprensibile. La crisi viene da lontano, da mesi. E non solo Italia Viva le ha chiesto un cambio di passo, una svolta a riferimento al PD. Ora o mai più. È proprio questo il momento per aprire la crisi. Ora o mai più. Ora o mai più si può fare la discussione. Chi dice che durante la pandemia non si può parlare di politica, nega tra le libertà costituzionali rimosse in questo periodo, persino quella doverosa di occuparsi del bene comune. Ora ci giochiamo il futuro, non tra sei mesi. È diretto l'affondo al Premier per Renzi, che pure lo ha voluto e ora la bolla come campione di trasformismo. Signor Presidente, lei non può cambiare le idee per mantenere la poltrona. Abbia la forza di fare una cosa diversa. Lanci un messaggio profondo al Paese. Racconti che c'è uno spazio per tutti noi. E questo spazio per tutti noi, maggioranza e opposizione, è uno spazio che non può essere cancellato dal fatto ma lui c'è al 2%. Renzi immagina voti bassi per il governo che gli riderebbero spazio e un ruolo decisivo in Parlamento. Cita Martinazzoli che contro Craxi con un governo della non sfiducia scelse di andare a elezioni anticipate. Riunisce il gruppo e alla fine conferma l'assenzione. Il PD appare molto preoccupato ma è duro con l'ex alleato. La mia impressione è che Renzi ha in realtà rinunciato a un confronto serrato dopo le aperture del Presidente Conte. Noi ci facciamo carico della nostra responsabilità, andiamo avanti in Parlamento, ci confronteremo, apriamo con grande trasparenza, chiarezza, franchezza alla collaborazione di chi vorrà collaborare in Parlamento nelle prossime settimane. Nella conta della fiducia dal mattino ci sono alti e bassi, il sì di Mario Monti in nome dell'europeismo e di Casini che chiede di ricucire coi Renziani, il sì rivendicato con orgoglio da Sandra Leonardo Mastella e l'arrivo in aula per votare alla fiducia di Liliana Segre salutata da un forte applauso. Ma conferma il no una maggioranza raccoglitice e ma Bonino sembra tirarsi indietro il socialista Nancini. L'Udc tuona il suo basta a fantasiose ricostruzioni. Il centrodestra riunisce due volte dopo le due di ieri il suo consiglio di guerra per garantire il contenimento e Berlusconi assicura da remoto che nessuno di Forza Italia voterà per Conte. La Lega tiene stretta la fila e alza i toni. Il peggior governo, mezzo milione di posti di lavoro persi. Nella replica Conte cerca consensi parlando di famiglia, scuola, antimafia, giustizia. Su Italia Viva tiene un basso profilo, quasi ignora Renzi. Nega i suoi dati sull'economia, dobbiamo investire sul futuro, non serve una crisi. I troppi morti li addebita il fatto che la pandemia ha colpito per prima l'Italia, la popolazione è anziana. Il recovery è migliorato nel confronto anche con i renziani. Assurdo mollare ora. Il confronto c'è sempre stato. Poi avete scelto l'aggressione e gli attacchi mediatici contro l'interesse del Paese. Il mio appello è volenteroso e trasparente. Se non ci sono i numeri, il governo va a casa. Allora, scusate, la situazione cambia di secondo in secondo. C'è una voce che abbiamo verificato e che a questo punto è molto più di una voce che cambia le cose. Perché? Sentite da Paolo Celata. Qual è la notizia? Sì, che vi dicevamo che abbiamo cercato di avvicinare il senatore Gianrusso che non ci aveva risposto. Sì, ma credevamo che fosse perché... Insomma, era molto dubbioso. Ecco, abbiamo avuto... Ecco, scusa Paolo, perché dicevamo Gianrusso non parla perché si appresta a votare sì. Votasse sì alla fiducia, invece è l'esatto contrario. Esatto. E invece è l'esatto contrario. Abbiamo avuto conferma, conferma, diciamo stiamo intorno al 99%, ma non solo Mario, Michele Gianrusso, ma anche gli altri dubbiosi. Abbiamo saputo che quel Ciampolillo che è irrintracciabile dovrebbe votare insieme a Gianrusso e a Carlo Martelli, altro ex 5 Stelle, vicino alla Lega. Questi tre, da quello che sappiamo noi, voteranno no alla fiducia al governo Conte. E questo è un passaggio molto importante. Aumentano i numeri dell'opposizione e vacillano le sicurezze della maggioranza. Quindi Ciampolillo, Gianrusso e Martelli, no? E forse in avvicinamento alla Lega? Vediamo. Allora, e grazie, questa è una notizia ovviamente clamorosa per i numeri, clamorosa stiamo parlando comunque di quello che sta succedendo in quello che non a caso è stato definito in questi giorni in Suc e Detale da una parte e dall'altra. Sono sforzato molte volte in questi due giorni di ricordare che quando si fa la campagna acquisti la fanno tutte le squadre, non una sola. Marco Damilano, certo che con numeri che ritornano vicino a 150, ma risalgono anche dall'altra parte. Perché quando uno, cioè se uno non partecipa al voto o si astiene, sono voti in meno, ma quando uno passa dal sì al no sono voti in meno della maggioranza. E qui è una situazione in divenire, diciamo, ma che si fa, cioè è una doccia fredda, diciamo, per quanto riguarda la maggioranza e il governo. Passiamo perché io fino a qualche secondo fa, prima di questa notizia che ha dato Paolo, avevo la sensazione che si dessero dei numeri molto più bassi di quanto fossero circolati durante la giornata per poi poter dire, beh, per come si erano messe le cose 156, 157, mica male. Però certo se venissero a mancare voti ex 5 Stelle che vanno in direzione Lega sarebbe un fatto numerico e anche un fatto politico. Comunque l'affanno era... E quindi il fatto numerico e il fatto politico che ci aspettavano sulla maggioranza si verificherebbe dalla parte opposta. In realtà né Martelli, né Ciampolillo, né Gianrusso venivano messi nei 153, penso. O almeno uno dei tre forse sì. Però se passano al no è un altro discorso, perché evidentemente, tra l'altro, io non so cosa può succedere da qui al momento in cui effettivamente si vota. Perché poi a questo punto... Manca ancora un'ora. Manca ancora un'ora. Manca ancora un'ora. Solo Ciampolillo era considerato tra i pro, ma giusto per la difficoltà a recapitare... E le parole, cioè voglio ricordare che è stato esplicitamente citato Gianrusso Alessandra Sardoni, da Conte? Sì, esatto. No, non è stato citato, è di quelli non nominati con nome e cognome, però la tirata sull'antimafia e sui giudici è stata interpretata come un segnale a lui. Ed era stato, diciamo così, considerato sufficiente, visto anche il silenzio. Come cambia le cose? Questa notizia le cambia poco, nel senso che sono in realtà quelli che avevamo già contato, cioè i 153 erano al netto del fatto che non c'erano né Gianrusso né Martelli, che non era mai stato in discussione, appunto era già Luigi Paragone, tra l'altro che oggi qui, anche al Senato lo spiegava, né Martelli. Quindi questi nomi qui sarebbe stato al contrario se Gianrusso avessi detto di sì... Però questo scusa, vorrebbe dire un'altra cosa, 153 sì, 145 no, questa è la situazione in questo momento. E 18 astenuti. E 18 astenuti. Certo, certo. E sarebbe 153 sì con il senatore Abita. E quindi sarebbe veramente molto basso, però, no, questo va detto ed è un, sarebbe veramente un risultato basso, è sotto i 155 eccetera eccetera, però devo anche dire, si registra qui sempre per quello che vale, però il clima conta, si registrano anche un po' delle voci che vanno nella direzione di quello che stava dicendo Marco Damilano, ovvero che in realtà poi ci possa essere qualche sorpresa in più. Non si capisce quale, se viene confermata la notizia che ci stava dando Paolo Celata e che quindi invece congela tutto ai numeri che avevamo detto, quindi a questi 153, però si continua a sperare in qualche apporto, tanto che c'era anche chi, così nei corridoi, fonti, sempre fonti di maggioranza, ovviamente che parlavano di raggiungere 157. Però allo Stato e sui nomi che abbiamo e i conti che abbiamo dovrebbero essere tutte sorprese, diciamo così, perché per il resto appunto la cosa che ci diceva Paolo è che comunque è confermato che non ci sono voti in più, però non dobbiamo sottrarre tre. Ah, e poi c'è sempre, c'è un po' lì che non si trova. Scusa, allora, Lorenzo Pregliasco, il tuo numerista di fiducia, che sta tenendo tutti i conti, parla di 152 a 145 in questo momento. È chiaro che è una situazione che dovendo ancora finire la giornata. È comunque poco rassicurante e 152 con tre senatori a vita è una soglia che è molto bassa, anche con la massima benevolenza che può avere il Capo dello Stato per questa situazione. Lo diciamo, cari telespettatori, senza mai fare il tifo né per la lepre né per il cacciatore, ma qui è chiaro, è evidente che stiamo raccontando per una situazione che comunque vada a finire, è piuttosto triste perché ci sono due poli, diciamo, quello della maggioranza e quello dell'opposizione, e in mezzo un mercanteggiamento oltre alla stensione di Italia Viva. Non è una bella rappresentazione di un paese. Poi uno può dire con la pandemia, non è comunque, anche se non ci fosse la pandemia, è la rappresentazione di uno stallo, di uno stallo che è molto pericoloso. Sta parlando in questo momento il capogruppo di Forza Italia al Senato Bernini e allora io prego Paolo Celata di andare a riverificare in zona Paragone, diciamo, essendo, è chiaro che è Gianluigi Paragone, nostro ex collega, come ben sapete, eletto nelle file del Movimento 5 Stelle e poi uscito dai 5 Stelle che fa da pivot di questa situazione degli altri ex 5 Stelle che starebbero stazionando verso il no. No, però vediamo anche con Alessandra Sardoni se c'è qualche aggiustamento in senso contrario. Probabilmente alcuni dei nomi che si tenevano magari per i prossimi giorni a questo punto per tamponare l'emoragia potrebbero essere spinti verso il sì già nella conta di questa sera. Franco Bechis, Alessandro De Angelis, Tommaso Labate, brevissimi commenti a questa situazione. Beh, a parte che ci saranno le dichiarazioni di voto in dissenso dal gruppo e da lì forse poi vedremo qualche sorpresa, poi ce ne possono essere. Certo, fossi dentro un gruppo di Italia Viva, Linea Renzi, Bellanova, con quei numeri lì sarei ingolosito da andare a depositare un no nell'urna. Poi salta quel gruppo di Italia Viva, ma certo farebbe cadere Conte se anche solo quelli fedelissimi a Renzi facessero quella scelta. Quindi è un voto da brivido. Alessandro De Angelis Ma tu dicevi una situazione triste, io direi che oggi si sta celebrando una profonda ferita oserei dire democratica, insomma, perché in questa situazione invece di offrire un progetto nella replica di Conte c'era certo l'affanno, perché anche lui sa i numeri, anzi li sa meglio di noi, e come ha replicato? Ha replicato provando a raccattare, offrendo un po' la qualunque, no? Ha citato Borsellino perché sa che Giarusso ha cuore l'antimafia Ha citato il calo demografico perché sembrava che interassero un alto parlamentare Cioè noi siamo due ore che siamo appesi a Ciampolillo, Drago e Giarusso che non stiamo propriamente parlando di... no? Ecco E quanto si può andare avanti così nei prossimi giorni? E questo, Enrico, non sta avvenendo solo, troppo facile dirlo, in piena pandemia, eccetera Sta avvenendo anche all'interno di una crisi istituzionale che è sotto gli occhi di tutti Questo avviene con un Premier non eletto, in un Parlamento che ormai è anni luce lontano dal Paese e superato anche da una legge elettorale che è stata approvata dagli italiani Ecco, se non esce una maggioranza chiara, io non credo... Superato da una riforma del numero degli eletti E' certo, è certo, è certo Io mi domando in queste condizioni Sai, tra sei mesi c'è il semestre bianco, il che significa che non si può più votare Entrare con questa confusione del semestre bianco significa veramente assicurare al Paese... Brevemente anche la parte Da ultimi segnali che mi sono arrivati, secondo me, dalle parti del governo Stanno cominciando a separare i responsabili dai costruttori Se così fosse... No, non era battuta, la spiego Secondo me oggi loro cercavano i responsabili Cercavano una situazione in cui aritmeticamente potessero arrivare Non dico a bissare Ma ad avvicinarsi il più possibile alla situazione di ieri C'è una fiducia che è stata in un contesto decisamente più facile Ottenuta con qualche unità in più rispetto al previsto E rendendo la pattuglia di Italia Viva di fatto ininfluente ai fini della fiducia Perché se anche l'avessero votata contro la fiducia sarebbe passata lo stesso Per poi lasciarsi per la settimana o le settimane successivi Quindi nel gioco all'interno della coalizione con il capo dello Stato L'allargamento della costruzione Se adesso, e non abbiamo ragione di dubitare Le indiscrezioni portano a un irrobustimento del fronte della fiducia È in linea di principio possibile che le carte se le giochino stasera Per cui, secondo me, è anche possibile Che finisca con 159 o 160 paradossalmente Così come con 151 barra 150 Così ho detto tutto In questi minuti il pressing su Nencini Che sta in Italia Viva, che è responsabile del simbolo È diventato asfissiante Però non è pericoloso Lì potrebbe esserci poi la tentazione degli altri 17 Eh sì, di votare no Però per dire che anche figure a cui era stato detto Entrate in campo in un secondo momento A questo punto devono decidere da che parte stare Già nei prossimi minuti Ma la sorpresa che si sposta non sale il fronte della fiducia È stato chiarissimo Non vorrei però, pure in questo telegiornale Che ovviamente sta seguendo minuto per minuto Quello che sta succedendo Non vorrei dimenticare E quindi vediamo il servizio Quello che succede oggi sul fronte della lotta alla pandemia Più contagi rispetto a ieri A fronte di molti più tamponi In aumento i nuovi casi Dopo due giorni di andamento in discesa Tornano sopra soglia 10.000 E poi il numero più brutto Quello dei morti Oggi sono più di 600 226 più di ieri Una cifra ancora altissima Segno che il virus continua a mordere Sono quasi 10.500 i nuovi positivi Su 254.070 test Ora si contano tamponi molecolari antigenici Col tasso di positività che scende al 4,1% In calo rispetto al 5,6% di ieri Meno presenze nelle terapie intensive Nel saldo tra ingressi e uscite C'è un calo di 57 unità In totale i ricoverati in rianimazione Sono 2.487 In calo di 185 unità rispetto a ieri Anche i ricoverati in area medica Più colpita è la Sicilia Per il secondo giorno di fila Con un più 1.641 casi Seguita da Lazio ed Emilia Romagna Migliora la situazione per il Veneto Da due giorni sotto quota 1.000 nuovi casi Le persone vaccinate Sono quasi 1.200.000 4.200 hanno ricevuto la doppia dose A proposito di vaccini Crescono i timori per il ritardo annunciato Nella consegna da parte di Pfizer Spedizioni a singhiozzo e rinvii Oggi in Italia sono arrivate appena 53.000 dosi Delle quasi 300.000 previste Con le regioni costrette a bloccare le nuove vaccinazioni Per garantire i richiami Il ritardo di Pfizer è molto preoccupante Dice il direttore dell'AIFA Nicola Magrini Pressing di Bruxelles Per avere più forniture Con Pfizer stiamo lavorando sulla trasparenza L'azienda ha accettato di rendere noto il proprio contratto Con l'Unione Europea Ha detto al Parlamento Europeo La commissaria alla salute Stella Chiriachides I dettagli delle consegne ha precisato Sono disciplinati dai contratti Tra stati e aziende Allora c'è un altro aspetto Mentre seguiamo la crisi In questo momento sta parlando Sta concludendo il suo intervento Vediamola per qualche secondo La capogruppo dei senatori di Forza Italia Ma la seduta di Palazzo Madama di oggi È stata aperta con una notizia raggelante Perché a 96 anni Una parte dei quali per quattro legislature di fila Passate proprio al Senato A 96 anni se ne è andato uno dei grandi vecchi Della sinistra italiana Emanuele Macaluso Una casa Roma in quello che rimane di popolare al testaccio Piena di libri e del cuore rosso Di passione di politica di Emanuele Macaluso Tessera del PC a 17 anni nel 1941 Adesso quelle tessere vanno all'asta su internet Ma il ragazzo di Caltanissetta Classe 1924 Perito minerario A quel simbolo aveva fatto onore Responsabile della Cigelle siciliana a 22 anni Consigliere regionale Fino alla valigia per Roma Destinazione Bottegone Con incarico prima nel comitato centrale Poi nella direzione E infine nella segreteria politica Era così che si diventava grandi e dirigenti di partito Che si accompagnava togliati nei viaggi Nell'allora Unione Sovietica E si divideva la stanza Con Enrico Berlinguer E i suoi proverbiali silenzi Ma Caluso è stata tanta storia Di testa e di cuore del PC Da direttore dell'unità Dall'82 all'86 Con il titolo Tutti Se per raccontare il popolo commosso Al funerale dell'amico Berlinguer Nel giugno dell'84 E cinque anni dopo Non abbandonò Occhetto Nella svolta lacerante della Bolognina Che sciolse il partito dei compagni E fondò quello dei democratici di sinistra Oggi al Senato Che ha onorato per quattro legislature Dopo le due alla Camera Ha avuto il suo minuto di silenzio Non c'era l'amico Giorgio Napolitano E la giornata era così lontana Dagli scontri raffinati sul migliorismo Consegnato alla storia delle dottrine politiche Nell'anno in cui Tra due giorni Si celebra il centenario della nascita Livorno del PC In quel silenzio c'era il rispetto Per l'intelligenza acuta Ricordata oggi da Mattarella Per la storia di una vita Di un grande vecchio di 96 anni Che aveva conservato Della militanza politica La bellezza della passione sincera Lo chiamavano Emma I giornalisti I suoi colleghi Emma era ovviamente Erano le iniziali del nome e del cognome Ed era il modo in cui si firmava Nei corsivi E negli articoli Più sul Furei Andiamo, torniamo però adesso All'attualità stretta Perché Hai altro Paolo Celata? Sì Abbiamo cercato conferme Direttamente con la fonte Cioè con Paragone A proposito della notizia Dei tre senatori Allora lui ci ha detto Ma non dite sciocchezze In realtà iniziava con la C E finiva con Ate A proposito del passaggio Nella Lega Però conferma il voto no Alla fiducia Dei tre Ciampolillo Giarrusso E Martelli Quindi il voto no È confermato Su poi Quello che succederà dopo Diciamo così Si vedrà E li unisce Ci ha tenuto a chiarire In particolare con Martelli e Giarrusso Il progetto di uscita L'Ital Exit Questo ci ha detto Paragone Vediamo Sta iniziando Vediamo solo l'inizio Perché il tempo è tiranno E daremo tra poco La linea a Lilly Gruber L'inizio proprio Dell'intervento di Salvini La dichiarazione di voto Del leader del centrodestra Seguendo questo dibattito Che per certi versi È stato surreale Perché per qualcuno Qua dentro Il problema è perdere La poltrona Per gli italiani normali Il problema fuori di qui È perdere il posto di lavoro E quindi mi scuso A nome di qualche collega Senatore Che mi ha fatto vergognare Di essere senatore I dati dicono Anche oggi L'Avvocato Conte Ha ribadito Che sostanzialmente Al governo migliore al mondo E chi dice il contrario Mente I dati Che non sono opinabili Purtroppo E sottolineo Purtroppo Dicono che Siamo i primi al mondo Fra i grandi paesi Per morti di covid E siamo gli ultimi al mondo Per crescita economica L'Avvocato Conte Avrebbe capito Comunque prende in considerazione Questo spartiacque Acque dei 155 Non è chiaro Invece Questo non sono riuscita A capirlo Se nel dire 153 Quindi stare su questi numeri In questi conteggi Che vengono però Confermati Sia in area 5 stelle Sia nel partito democratico Se invece non c'è qualcosa Che magari Chi sta trattando Qualche carta coperta E' inutile E' inutile dirlo adesso Allora dopo di noi Lili Gruber Come ospiti A 8 e mezzo Gianrico Carofiglio Antonio Padellaro E Massimo Giannini Poi c'è Di martedì E tra gli ospiti Ci sei anche tu No? Adesso vado Abbiamo uno dei Abbiamo in fregoli Dei commentatori Sempre lo stesso film Certo Da Milano Ma ci sono anche Ilaria Capua Camillo Davigo Pierluigi Bersani E ci vediamo Dopo la pubblicità Per le ultime Allora Siamo alla conclusione Per quanto ci riguarda Vi invito ovviamente Caldamente A continuare a seguire Con Lili Gruber In 8 e mezzo E poi con Giovanni Floris In dimartedì Questa giornata Incandescente E importante Che verosimilmente Darà il suo verdetto Tra circa Un'ora e mezzo Ultimissime Da Andrea Molino Che è davanti al Senato A ogni evidenza Sì Potrebbe Se ci fosse Questo grave problema Di numeri Voci Raccolte Potrebbero arrivare Due voti Da Forza Italia Queste sono Nella prospettiva Evidentemente Ci potrebbero essere Questo apporto Vedremo Tutto da verificare Nei prossimi minuti Certo assolutamente Ma hai fatto bene A riferire Ed era Come dire Un gesto atteso L'anticipazione Per Per riassestare Un pochino I numeri Da un punto di vista Proprio cosmetico Ma i numeri contano Però Li vedremo I numeri li seguiremo Li seguiremo Come voi da spettatori Vi ripeto Dopo di noi Lilli Gruber A otto e mezzo E poi subito dopo Giovanni Flores Di martedì Ultimo passaggio Come sempre La borsa Spero però Che ci sia Vediamo subito I numeri Di Piazza Fari Che come vedete Ha chiuso Con un meno 0,25% Per stasera Visto che ieri Ho dato i numeri Che non c'erano Perché era chiusa Per il Martin Luther King Day La borsa americana Wall Street Può attendere A domani Oh Domani Scusate Domani Alle 17 L'Inauguration Day In diretta Da Washington Qui A domani A domani Per l'Inauguration Day Per l'Inauguration Day Per l'Inauguration Day Av Pat